Alla conferenza stanza del progetto Quality Made Business Acceleration abbiamo incontrato Fabio Baruncini, dell'azienda Ale Vittovaglie, che fa parte della prima cordata di aziende che hanno partecipato alla prima edizione del progetto e che avrà un ruolo importante nel mentoring delle nuove aziende invece che verranno coinvolte con questo bando che verrà lanciato lunedì 5 ottobre. Chiediamo al signor Baruncini se ci racconta un po' questa esperienza e cosa ha significato quella sua azienda la partecipazione a questo progetto. Prima di tutto puntare alla qualità io penso che sia una delle prerogative primarie di ogni azienda. Per quanto ci riguarda noi lavoriamo nel campo dell'alimentare, nella somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un mercato. Quindi farci certificare in qualità turistica in questo campo per noi è sembrato un onore per il territorio e un onore per noi ma anche un onere da poter cercare di mantenere sempre la qualità come punto primario della nostra impresa. La nostra impresa ben felice ha partecipato all'inizio di questo progetto raccogliendo l'invito che ci è stato proposto e riteniamo che sia sia per il territorio e sia per tutte le imprese importantissimo avere questa tipologia di esperienza. Noi la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro per il proseguimento del progetto. A voi e a tutte le prossime imprese. Grazie, buona giornata.